Pianeta Sindacale Carabinieri si presenta all'Aquila con un momento di confronto nella caserma della regione forestale in cui sono state affrontate molte problematiche legate all'arma, dalle carenze di organico all'organizzazione territoriale passando per la sicurezza e l'ordine pubblico, ma si è parlato anche del ruolo di specializzazione dei forestali. L'obiettivo è spingere il governo ad un confronto che dia risposte. Uno degli obiettivi è il rinnovo del contratto di lavoro 2022-2024. Noi chiediamo al governo Meloni di investire sulla carenza organica perché oggi la sicurezza del paese passa dalla forza dell'arma dei carabinieri che tutela sia l'ordine della sicurezza pubblica sia la tutela del nostro patrimonio ambientale e forestale. Sappiamo che l'investimento sulla sicurezza e l'investimento sulla carenza organica è un investimento importante. Certo, la risposta che può essere immediata è mettere in condizioni le forze dell'ordine e i carabinieri di poter avere un contratto adeguato, un rinnovo contrattuale adeguato e adesso c'è la manovra del documento economico e finanziario e adesso devono essere stanziati i fondi. Parlando nello specifico del nostro territorio, l'Abruzzo, l'Aquila in particolare, che è un territorio che ha avuto molte difficoltà, che è in ripresa, si può dire ancora un'isola felice? L'Abruzzo è una terra felice, ovviamente c'è una grande salvaguardia di quello che è l'ordine della sicurezza pubblica e della tutela ambientale. Sicuramente l'Abruzzo è una terra che soffre meno in questo senso, ma proprio perché si soffre meno bisogna far sì che non ci si trovi poi in momenti di difficoltà.